L'equipo Orizzonte Catania è campione d'Italia 2024. Orizzonte tricolore, 24esimo scudetto per Catania che doma un padova capace di tenere testa allo squadrone etneo per tutta la gara, spaventando le padroni di casa nel primo tempo e mezzo con vantaggi inaspettati e sorpassi insidiosi. Catania ha potuto contare sul calore del pubblico, una bolge incandescente all'interno dell'anesima che ha capito i momenti critici della squadra e l'ha lanciata verso il titolo a fine secondo quarto e poi all'inizio dell'ultima frazione. 14-12 il risultato finale, scudetto numero 24 e alle pendici dell'Etna è di nuovo festa grande. L'applauso è per tutti, siamo stati bravissimi, il pubblico ci ha dato la forza, la grinta. Non abbiamo mollato il padova, ha fatto un lavoro bellissimo, mi hanno fatto i complimenti perché hanno saputo lottare anche loro e noi siamo stati più bravi in questo. Sono fiero di queste ragazze che si gioca una finale scudetto. Gli ultimi cinque minuti c'erano tre, quattro, diciassettenni in acqua e l'Orizzonte ha dovuto fare, mettere tutta la propria esperienza, tutto il proprio peso, tutto. Un uomo in meno molto buono, dove non riusciamo a muoverci, buono. Grazie.